Da quando ci siamo insediati abbiamo cercato di immaginare insieme alla ditta appaltatrice, quindi insieme a Formula Ambiente, una soluzione per quella che è la presenza dei piccioni, che come sapete oltre al guano che è fortemente sporcante, fortemente anche acido e quindi sapete, lo vediamo tutti i giorni, è anche pericoloso dal punto di vista igienico-sanitario, abbiamo cercato di immaginare insieme un sistema per calmerare un pochino la presenza dei piccioni in città, anche perché in questi giorni di caldo sono aumentati tantissimo, perché si sono avvicinati alle fontane, ai luoghi dove c'è più acqua in cui dissetarsi e quindi insieme a loro si sono fatti promotori di questa iniziativa della falconeria, quindi ci sarà questo falco, è un metodo già utilizzato in altri luoghi italiani, in altre città, ma soprattutto anche negli aeroporti, mi ricordo tanto tempo fa si parlò dell'aeroporto di Firenze e degli aeroporti di Milano e quindi oggi lanciamo questa iniziativa, lanciamo anche, non solo metaforicamente, ma ci sarà la prima partenza del falco, nei prossimi giorni il falco solvorerà la città e man mano speriamo di arrivare al risultato sperato. Inizialmente ci sarà un gruppo di cinque serapaci tra Falchetti e Poiane che saranno lasciati libri che lungo Corso Marruccino e le zone limitrofe per con il loro grido spaventare i piccioni e noi ci aspettiamo che nel giro di qualche settimana la colonia che risiede sotto questi portici si sposti altrove. Il progetto che partirà proprio oggi riguarderà inizialmente il centro di Chieti e poi vi sposterete anche più in periferia? Il progetto parte oggi, è in via sperimentale fino a dicembre, riguarderà in questa prima fase solo Corso Marruccino, le zone centrali, proprio centrali da Piazza Trento e Trieste fino al Pozzo, alla Fontana, e dopo nella prossima stagione, primavera, vedremo di valutare di fare Santa Maria, Porta Pescara, insomma i quartieri limitrofi perché dobbiamo seguire la colonia e vedere dove si va ad appollaiare, dove si sposta.